Giovani generazioni incontrano le istituzioni, un nuovo modo per conoscere e vivere direttamente il funzionamento dei consigli regionali. E' questo l'obiettivo dell'iniziativa Ragazzi in Aula, una modalità per conoscersi, che propone agli studenti una giornata di formazione all'assise regionale della Campania, per avvicinare il mondo della scuola alle istituzioni. I ragazzi, attraverso la visita guidata ai locali dell'aula della regione, hanno partecipato a un vero e proprio reality game, con tanto di proposta di legge, articoli, commi e interventi, procedendo alla votazione effettuata sia per alzata di mano che elettronicamente, come una vera seduta consigliare. Vincenzo Viglione, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, spiega ai nostri microfoni l'importanza di questo progetto. E' un modo per cominciare a trasferire già in epoca scolastica quello che è poi il lavoro amministrativo di un consiglio regionale, in questo caso, che può essere tranquillamente quello dell'aggiunta regionale. Si spiega un po' quali sono i processi di formazione delle leggi a livello regionale, che possono essere anche quelli a livello nazionale. Da un po' di tempo, probabilmente, nelle scuole è venuta a mancare quella parentesi che prima era affidata all'educazione civica, e quindi in momenti come questo, ospitare gli istituti scolastici, recepire le loro istanze, come sta avvenendo stamattina, che hanno presentato una proposta di legge, è in qualche modo già per indirizzare coloro che saranno poi la classe dirigente e politica di questa regione, un domani, insomma, dopo di noi.